Lucio Fiordalisi, o sindaco di Patrica e coordinatore della federazione del PD, si pronunciò così dopo la sentenza del TAR sulle tariffe ACEA. È ora di cambiare registro. Il 4 marzo ci deve stimolare a non restare più silenti e passivi, ma a controbattere costantemente, verso coloro i quali cercano di veicolare messaggi ed informazioni del tutto errate. Il PD non è più disposto a fare lo sparring partner. Sono sconcertato come sindaco e come coordinatore della federazione del PD delle dichiarazioni dei proclami di alcuni amministratori, in merito al ricorso perso da ACEA sulla proposta tariffaria deliberata durante l'assemblea dei sindaci del 13 dicembre 2016. Ottaviani asserisce che dovremo indossare la fascia del lutto. Sui social c'è chi cerca di appropriarsi della sentenza del TAR, ma la verità è tutt'altra e va assolutamente spiegata. Dopo anni di latitanza, continua Fiordalisio, di mancate assunzioni di responsabilità, di assemblee deserte, di scelte non effettuate, finalmente qualcuno si è assunto l'onere di decidere stabilendo finalmente un piano tariffario adeguato, integrando ad esso le penali relative agli anni 2014-2015. A settembre 2016, lo stesso appunto all'ordine del giorno, venne accantonato proprio da quegli amministratori che oggi esultano per le scelte fatte da altri. Nello specifico fu la diffida a decidere da parte dell'autorità per l'energia elettrica il gas, che diede modo a dicembre di stabilire una tariffa di gran lunga inferiore rispetto a quella proposta da ACEA. Circa 40 milioni di conguai in meno ed inoltre di infliggere al gestore 11 milioni di sanzioni. I verbali dell'Assemblea dei Sindaci per fortuna sono pubblici, furono 27 i sindaci a scegliere. Oggi, chi cerca di accapararsi i meriti di questa votazione, deve ricordarsi che all'epoca o si è astenuto o ha votato contrario.